Per aver sentito quello che avete detto in prefettura, posso dire che gli intenti sono i medesimi, lo pensiamo nella stessa maniera. Io ritengo che un dialogo sia non solo possibile, sia necessario e indispensabile, anche perché i dialoghi politici di alto livello sono impossibili. Voi siete gli unici politici che sono a contatto con la gente, con la gente comuni, quelli che vivono i problemi, come lo siamo anche noi imprenditori, con i contatti con i nostri dipendenti e con le piccole imprese. Noi se non cambiamo questo modo di pensare che c'è in Italia non andiamo da nessuna parte, bisogna far ritornare il senso del dovere. che purtroppo negli ultimi anni è andato man mano scemando. E nei piccoli comuni esiste ancora, più andiamo in alto che meno c'è. Quindi io ho iniziato qui con Confindustria Purio a fare una battaglia per cercare di cambiare la mentalità della gente. Voi siete le persone più adatte per aiutarmi e io penso di essere come Confindustria la persona più adatta a aiutare voi. Dobbiamo fare una battaglia comune, non solo tra di noi ma anche con gli artigiani, con i commercianti, con tutte le attività produttive che sono quelle che fanno muovere l'economia.